Benvenuti qui su MTE per questo nuovo video. Per incasinare ancora di più l'algoritmo di YouTube del mio canale, quest'oggi aggiungerò l'argomento politica agli argomenti che già normalmente tratto. Come vedete dal titolo, parlerò del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Non vi preoccupate, sarò veramente breve, perché la curva d'attenzione su questi argomenti è logaritmica. Si tratta di un referendum costituzionale e non ha bisogno quindi di un numero minimo di elettori per essere considerato valido. Si terrà il 20 e il 21 settembre e, visto il criptico testo in sovraimpressione che state guardando, chiede ai cittadini se sono favorevoli sì o contrari no al taglio di 230 seggi alla Camera e 115 al Senato. Si tratta di un taglio superiore ad un terzo dei rappresentanti attualmente eletti. Come potete vedere adesso, se dovesse vincere il sì, si passerà da 630 parlamentari a 400 e da 315 senatori a 200 e, inoltre, i senatori a vita potranno essere al massimo 5. Prima di passare al sì o al no, un breve cenno sulla democrazia italiana. La nostra Repubblica Democratica, in vigore dal 1946, è una democrazia rappresentativa. Questo vuol dire che i cittadini eleggono dei loro rappresentanti che si impegnano a creare un governo e a rappresentarli nei termini della Costituzione. Solo quei referendum i cittadini possono avere una democrazia diretta. Perché votare sì? Chi rappresenta il fronte del sì, cioè tagliare il numero dei politici, sostiene principalmente questi punti. Uno, i costi della politica italiana scenderanno, non dovendo più pagare per più di un terzo dei nostri rappresentanti. Tutto questo è quantificabile in poco meno di un centinaio di milioni di euro l'anno. Meno due, meno rappresentanti significa più velocità decisionale e promulgazione delle leggi. Perché votare no? Chi invece rappresenta il fronte del no, quindi lasciare tutto come attualmente, sostiene principalmente questo. Meno rappresentanti politici per i partiti minori, che rifletterebbe quindi una minore rappresentanza dei cittadini vista l'attuale assegnazione dei seggi nella legge elettorale. Ora posso iniziare con la discussione seria. Il fronte del no non la dice tutta perché in Italia è noto esserci un problema con le minoranze al governo, che spesso in passato hanno fatto cadere la legislatura per un proprio tornaconto personale. Oltre a questo, dati alla mano, l'Italia è uno dei paesi al mondo con più rappresentanti eletti rispetto ai cittadini. Per l'esattezza attualmente si parla di 1 su 63 mila cittadini. In Europa, con l'uscita degli UK, che ha 1 su 46 mila, siamo quelli più rappresentati perché al secondo posto c'è la Francia con 1 su 72 mila e poi la Spagna con 1 su 74 mila. Il problema però su questo numero è che questo taglio porterebbe ad averne 1 su 100 mila, che è come quello che il tedesco, il più alto in Europa, e questo unito ad una pessima legge elettorale che mischia maggiorità riproporzionale con uno sbarramento renderebbe fin troppo minimo il peso di partiti minori anche in confronto a degli eletti all'estero. Questo porterebbe le minoranze a non avere praticamente quasi più peso politico. Il fronte del sì dal canto suo punta sul fatto che le persone non si rendano conto di quanti soldi spenda realmente lo Stato nel suo bilancio annuale. I 100 milioni risparmiati, anche nel miglior caso possibile, rappresentano una cifra così rilevante che è paragonabile ad uno sconto di 80-90 centesimi su di un'auto che ne costa 10.000 di euro, però, e quindi non ci paghi nemmeno un caffè. Ancora più campata per aria è invece la sioma che meno parlamentari vuol dire più velocità. Se non ci fossero le commissioni parlamentari, forse sarebbe anche vero, ma visto che esistono, c'è invece il rischio che tutto sia ancora più rallentato. Infatti una legge elettorale prima di arrivare in aula deve affrontare le commissioni che la discutono, verificano e ne propongono emendamenti. Già ora i parlamentari sono pieni di questi incontri di commissioni. Se il numero di essi calasse così tanto, il rischio è che le commissioni non potrebbero più riunirsi per mancanza di numero legale, costringendo a successive schedulazioni e procrastinando sempre di più l'iter legislativo. In conclusione, io voterò Nì, perché la trovo semplicemente una trovata populista con solo dei lati negativi per lo Stato, ma al tempo stesso un taglio dei parlamentari, magari minore, assieme ad una modifica più organica e sensata della legge elettorale e dei metodi di lavoro delle Camere, la troverai una bella cosa per aggiornare il Paese. Ricordo il 20 o il 21 di presentarsi al proprio seggio con un documento valido, la tessera elettorale e anche la mascherina. Spero di esservi stato utile ricordandovi di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!